Dopo l'esecuzione, la decapitazione, dello stagio giapponese, su internet i giapponesi hanno risposto in un modo incredibile, i ragazzi stanno facendo divergine fotomontaggi, hanno fatto che decapitano Goku, quell'altro, ci stanno dei pupazzetti, andate là a guardare, ci hanno messo pure i calogero pilli, vero Matteo? Sì, mi saluto a calogero di te, comunque non pensavo che i giapponesi avrebbero risposto in questa maniera ragazzi, la libertà, di valora, di disegno, e ora sta a finire proprio, forse è meglio che si danno una calmata perché questi non scherzano questi bastardi ragazzi, quei pezzi di merda, non scherzano Matteo? Mi sono Matteo di Roma, questi non scherzano, forse sono i bastardi, non scherzano Matteo 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 Matteo